Con le acciai speciali, leader nella produzione di acciai lunghi e legge di nickel, nasce nel 1916 come azienda pubblica, nel 1994 viene privatizzata. La famiglia Marzalati ne acquisisce il 100% della proprietà. Il primo dicembre 2022 cambia la compagina nazionaria e il gruppo Walshin diventa proprietario del 70% della proprietà della condizione speciale. La famiglia Marzalati rimane nel consiglio di amministrazione con il 30% delle quote azionarie. Oggi come oggi l'azienda punta su due valori principali. La sicurezza al primo posto, l'obiettivo è infortuni zero, un obiettivo sicuramente ambizioso ma doveroso in quanto tutti i dipendenti hanno diritto e dovere di terminare la giornata lavorativa non avendo riportato infortuni. Su questo punto l'azienda è assolutamente impegnata con attività di formazione continua anche a carattere settimanale. Il secondo pilastro su cui si fonda la condizione speciale è la sostenibilità. La sostenibilità non vuol dire solo ambiente. La sostenibilità si è esplicita in una governance che sappia garantire a tutti i dipendenti un ambiente di lavoro sostenibile. Sostenibile significa un ambiente di lavoro confortevole, pulito, in cui i dipendenti possano, lavorando, ricevere una situazione sicuramente confortevole che sia anche utile per la creazione di relazioni professionali e interpersonali forti e costruttive. Il plant si ritrova ad Amasta, vicinissima città. Questo implica che per noi la tutela dell'ambiente è fondamentale e su questo tema sono stati fatti notevoli investimenti. L'ultimo nel 2019, per 7 milioni di euro, la cosiddetta Doghouse, è andata a zerare i rumori provenienti dall'acciaieria. Oggi come oggi ricerchiamo figure ingegneristiche provenienti da facoltà come ingegneria chimica, ingegneria gestionale, ingegneria dei materiali, ingegneria energetica e nucleare. Ai nostri candidati offriamo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che assicuri al neoassunto un programma di crescita di carriera già chiaro al momento dell'assunzione.